signore e signori traders ed investitori buonasera buon lunedì 22 febbraio 2016 benvenuti a questo primo giorno della seconda settimana del nostro intraday club ci siamo intrattenuti poco fa anche sapete che ormai mi sono affezionato i vostri fuori onda anche per capire esattamente un attimo che aria tira all'interno qua della nostra community ci sono tante domande tanti dubbi tante situazioni belle di cui parlare e stasera ci mettiamo subito sul punto e andiamo a vedere esattamente come è stata la nostra giornata dopo l'introduzione della settimana scorsa inizieremo a vedere al meglio le dinamiche un pochettino più tecniche che ci accompagneranno da qua alla fine dell'anno oggi andremo ad affrontare un argomento non importante non importantissimo non fondamentale di più senza di questo signori veramente si rischia di non di fare brutte figure o di farsi male perché come avete visto abbiamo blindato tutto per darvi un'esperienza che comunque sia piacevole da vivere e non traumatica si può fare molto meglio si può fare molto meglio guarda caso proprio oggi il mercato ci ha dato lo spunto esatto per vivere al meglio questa nostra giornata che comunque e qua poi vi chiedo aiuto anche a voi come la mettiamo con le statistiche oggi quindi vediamo passo passo prima cosa fondamentale la gestione della posizione oggi anche sarà una pietra miliare diciamo di questo nostro intervento perché se fino adesso tutti quanti bene o male facevate la stessa cosa entravate sulle soglie gold in un determinato modo rapporto rischio rendimento eccetera da oggi diamo inizio ufficialmente alla discrezionalità per cui signori stare a voi a seconda di quella che è la vostra propensione al rischio la vostra ansia il numero di operazioni se avete scelto di diventare traders mattina pomeriggio pomeriggio sera o entrambi avete scelto di farlo come lavoro principale o in maniera più passiva stare a voi cambieranno i risultati cambieranno le statistiche l'obiettivo ovviamente è a parità di operazioni portare a casa un risultato migliore abbiamo visto che gli hft ci sono avete visto come funzionano che i momenti tranquilli funzionano alla grandissima non ci accontentiamo facciamo un ulteriore passo e vediamo come in casi proprio come oggi evitare che un profit praticamente toccato e portato a termine si possa trasformare in una loss è una cosa totalmente insensata che oggi andremo a sistemare prima di iniziare come sempre non dimenticate mai l'autostrada che si può andare sia a 130 e la tecnica è sempre le marce dalla prima alla sesta ma queste marce qua in un contesto diverso possono veramente non solo non portare a termine ma farci davvero male quindi l'importanza del contesto a prescindere dalla tecnica e come più grandi obiettivi non perdiamoli mai di vista sia da parte nostra sia da parte vostra da parte vostra siete ben oltre il 70 per cento e dico pacca sulla spalla possiamo anche fare di meglio il mercato adesso ci sta dando una buona mano il resto ce lo state mettendo voi facciamoci pubblicamente i complimenti per il bellissimo momento ma ripeto non è che adesso settimana prossima arrivano due stop il metro non funziona più basta lasciamo da parte le emozioni concentriamoci su questo 70 per cento che anche se andata bene non è ancora il momento di comprare la ferrari parleremo di gestione della posizione e ovviamente andremo anche a dare un'occhiata nello specifico come ci si poteva comportare oggi alla luce dell'unica operazione gold che era segnalata all'interno delle nostre soglie quindi gestione della posizione l'ho messa come abs un controllo diciamo che sempre citando i nostri paragoni all'interno del mondo automobilistico cosa come si gestisce una posizione allora prima di tutto ancora prima di iniziare anche qua non è tanto la tecnica che lo fa ma la vostra manualità quindi dobbiamo fare un piccolo passo indietro e sinceramente questo è il vostro compitino che dovrete fare per domani fare una valutazione oggi sono in modalità ovviamente simulata perché volevo non voglio sputtanare i miei soldi per farvi vedere come si inseriscono degli ordini eccoci qua questo signori è il vostro book ce l'avete tutti quanti ce l'avete tutti quanti configurato con un rapporto rischio rendimento ben preciso non c'è cosa più brutta come dico sempre